Sarà presentato domenica prossima, 8 maggio a Gubbio, presso la sala della società operaia di mutuo soccorso, il libro I colori della Fenice, scritto da Pierluigi Neri e Simone Zaccagni. Due eugubini di generazioni diverse, ma con tanti punti in comune. La passione per la propria città e le sue tradizioni, la sua storia e la sua festa. La passione per il cinema, i viaggi, la lettura e le arti. La passione per lo sport, soprattutto il calcio, è una vita in cui la politica, fatta o subita, è stata una via maestra da seguire e di inseguire e su cui formarsi. Entrambi insegnanti, entrambi gioventini, entrambi santuvaldari. Questo libro è il frutto di chiacchierate pomeridiane di fronte alla celebre targa di Pietro Gori, dove dormono i giganti, i nani di passaggio non si persuadono di essere stati preceduti da tanta grandezza. A dialogare con gli autori, il giornalista Massimo Boccucci. Grazie. Grazie a tutti.